ciao filippo possiamo dire ben ritrovati dopo questa bella lunga pausa ci ritroviamo in spagna partiamo proprio da qua com'è questa ripartenza questo ritrovarsi dopo la sosta e rifarlo nel ritiro sì è un momento molto molto bello molto sereno perché c'è modo di lavorare con tranquillità senza la tensione quella della partita della domenica un ritiro molto affascinante diverso dal solito perché capitano un periodo in cui non siamo neanche abituati però a differenza del ritiro estivo abbiamo avuto pochi giorni liberi e quindi siamo arrivati già in ottime condizioni e c'è modo di lavorare con con intensità secondo me stiamo facendo un ottimo ritiro invernale cercheremo di farci trovare al meglio poi per gli impegni ufficiali domani si torna praticamente subito in campo avversario anche di livello perché c'è lo Sturgratz formazione che ha fatto le coppe europee poi ci sarà il Wolverhampton due test che vi rimetteranno subito diciamo con l'asta bella dritta perché sono due squadre importanti due test europei sì assolutamente sono due partite importanti ci teniamo a fare molto bene perché dobbiamo prepararci al meglio per il campionato e queste partite ci porteranno ad un giusto ritmo ad una giusta intensità per farci trovare ponti poi a gennaio già da domani cercheremo di affrontare la partita nel migliore dei modi come fosse una partita di campionato così che anche a livello mentale sia già una gara di una gara importante che poi ci porti nelle giuste condizioni a gennaio facendo un passo indietro per quanto parziale che bilancio fai della prima parte di stagione è stata una prima parte di stagione secondo me positiva siamo riusciti a fare delle buone gare abbiamo costruito il nostro fortino in casa questa secondo me è una cosa molto importante perché vincere davanti ai nostri tifosi è una grande soddisfazione stiamo stiamo lavorando sui nostri difetti su quello che abbiamo fatto meno bene in questa prima parte di stagione e quindi in questo periodo lo dobbiamo sfruttare al massimo per capire quello che abbiamo sbagliato correggerlo col mister e cercare poi di di fare una seconda parte di gara ancora meglio della della prima venendo al presente come sta vivendo questa sosta a dir poco anomala sicuramente un periodo di lavoro ritiro però per come siamo abituati non è veramente la la normalità è una sosta diversa dal solido però era una cosa che già la sapevamo prima del campionato quindi anche lo staff insomma dei preparatori ha fatto due preparazioni secondo me giuste stiamo facendo la seconda preparazione dell'anno è un periodo così ripeto secondo me anche bello sotto il profilo della tranquillità del fatto di fare gruppo anche ancor più di quanto lo siamo perché questo tempo che passiamo insieme tutto tempo importante perché ci unisce ancor di più e quindi ci sono tanti magari lati negativi della sosta perché ti ti ferma in campionato ti ferma anche un po a livello mentale però ci sono anche tanti altri lati positivi come quello di stare insieme di fare gruppo e già da domani ripeto dobbiamo metterci subito nelle condizioni mentali di preparare la partita come fosse campionato così che poi questo lato lo sfrutteremo poi a gennaio domani amichevole poi ne arriveranno altre tra un mese esatto però torno al campionato torno all'impegno ufficiale con questo chiudiamo da gennaio poi si riparte saranno cinque mesi intensissimi per arrivare a quell'obiettivo che l'impoli vuole centrare lo hai detto tu infatti sono saranno cinque mesi intensissimi per questo dobbiamo sfruttare tutte le amichevoli che faremo per cercare di essere intensi essere presenti in entrambe le fasi di gioco e capire quello che abbiamo fatto meno bene nella prima parte di stagione correggerlo col mister e cercare di aumentare ancor di più le cose che abbiamo fatto bene e il gennaio sarà sicuramente un momento bello perché rinizierà il campionato e sono sicuro che ci faremo trovare nel miglior modo possibile sotto l'aspetto fisico e mentale l'ultima davvero una risposta secca chi li vince mondiali brasile